Ben trovati da Tg della mobilità, nuovi parcheggi riservati a biciclette monopattili nelle strade del Tridente, circa 100 nuovi stalli riconoscibili da un'apposita segnaletica saranno posizionati a via Margutta, via Dell'Oca, via Ale Gabriele D'Annunzio e via Ferdinando di Sarvoglia. Scuola e trasporto pubblico, da lunedì 3 maggio avvia il nuovo orario pomeridiano delle linee S dalle 14.30 alle 17.30, da lunedì al venerdì e non più dalle 16 alle 17.00. Le linee S sono le corse speciali dalla periferia al centro a supporto degli spostamenti degli studenti. Restano invariate le corse del mattino, da lunedì al sabato, dalle 7 alle 10.00.